da copardini presenta la sua giunta nove assessori tre consiglieri delegati nella squadra del neoprimo cittadino vice sindaco il leghista giovanni minniti minorenne molestata in passeggiata vittima una ragazza di 16 anni l'uomo 29enne magrebino è stato individuato e denunciato dalla polizia posizionato il nuovo cavalcaferrovia a castelnuovo per completare l'operazione è stato necessario far arrivare un mezzo speciale dalla liguria ivan maraia a un passo dalla panchina rosso nera l'ex tecnico del ponte di aerea la prima scelta del direttore sportivo de home ben trovati per l'edizione di metà pomeriggio del tg noi apriamo con il sindaco mario pardini neo eletto a lucca che a tre settimane dalle elezioni finalmente presenta la squadra di governo nove assessori tre consiglieri incaricati di fronte alla stampa nella sala degli specchi di palazzo orzetti il neo sindaco ha detto una squadra fatta di competenze siamo pronti a lavorare per la città cinque uomini e quattro donne cui si aggiungono appunto i consiglieri incaricati il neo sindaco mario pardini ha presentato la giunta nessuna sorpresa rispetto a quanto anticipato il leghista giovanni minniti qui vanno le deleghe del sociale della sicurezza si alternerà come vice sindaco con fabio barzanti di difendere lucca e simona testa ferrata di fratelli d'italia che si occuperanno rispettivamente anche di sport edilizia sportiva frazioni protezione civile il primo istruzione ed edilizia scolastica la seconda e adesso guardiamo i numeri del covid oggi in toscana i nuovi contagiati sono 5.696 con un'età media di 48 anni tasso di positività che sale ancora al 24,1% aumentano i ricoverati oggi sono 712 e aumentano anche le terapie intensive che sono 29 4 i decessi in provincia di lucca 607 i nuovi contagiati e adesso andiamo a viareggio per un nord africano che è stato denunciato per violenza sessuale sentite la storia una violenza sessuale avvenuta di giorno a due passi dal mare e dalla passeggiata vittima una ragazza di viareggio di appena 16 anni è successo tutto lunedì poco prima delle 20 la giovane stava camminando con alcuni amici in via barellai quando ha incrociato magrebino di 29 anni il quale una volta alla sua altezza le ha messo una mano sotto il vestito palpeggiandole le parti intime per poi allontanarsi un gesto repentino che ha lasciato a mutolita la malcapitata sedicenne subito soccorsa dagli amici che si trovavano pochi metri più avanti e che l'hanno accompagnata fino ad una panchina nella zona del molo dando l'allarme alle forze dell'ordine lì ancora sotto shock l'hanno trovata gli agenti del commissariato di viareggio pochi minuti e l'autore della violenza è stato visto camminare tranquillamente poco lontano subito è stato riconosciuto dalla vittima i poliziotti hanno fermato il 29 anni lo hanno denunciato per violenza sessuale una volta in commissariato è risultato immigrato irregolare ed è stato accompagnato a milano al centro per il rimpatrio intanto proseguono le indagini per individuare l'autore del tentato stupro denunciato da una ragazza di 18 anni di pietra santa aggredita sabato notte sulla spiaggia della marina di torre del lago ai carabinieri ha raccontato di essersi allontanata dai locali diretta verso l'arenile e di essere stata avvicinata e rapinata da tre uomini uno dei quali dopo averle strappato la borsetta si era abbassato i pantaloni prontamente la ragazza lo aveva preso a calci e pugni riuscendo in qualche modo a fuggire i carabinieri stanno visionando le immagini della sorveglianza della zona per dare un volto all'uomo e per capire se sia coinvolto nell'episodio avvenuto poche ore dopo in passeggiata a viareggio e adesso parliamo della siccità l'allarme del consorzio di bonifica del bientina servono interventi straordinari sulla falda l'allarme sul livello della falda sotto la piana di lucca stavolta lo lancia il presidente del consorzio di bonifica ismaele ridolfi in una lettera aperta indirizzata agli amministratori locali e regionali e ai parlamentari ridolfi sottolinea che a causa della siccità è ormai reale preoccupante il rischio di gravi conseguenze sulla tenuta della falda con conseguente necessità di razionamenti per i vari usi dell'acqua così come reali sarebbero i rischi di nuovi fenomeni di subsidenza già ben conosciuti nella zona di paganico per questo il presidente del consorzio chiede che gli amministratori a tutti i livelli si attivino per reperire le risorse economiche necessarie ad un intervento di manutenzione straordinaria del sistema delle canalette della piana che alimentano per infiltrazione la falda sotterranea nella lettera ridolfi propone anche di arrivare quanto prima una gestione programmata della falda idrica attraverso un organismo di controllo a partecipazione sia pubblica che privata quella sotto la piana di lucca la più grande riserva idrica della toscana stimata in oltre 700 milioni di metri cubi d'acqua e oltre all'acquedotto di lucca rifornisce quelli di pisa livorno e della val di nievole cambio della guardia al vertice dell'autorità di bacino distrittuale dell'appennino settentrionale massimo lucchesi in scadenza del mandato quinquennale non sarà rinnovato alla carica della presidenza al suo posto su proposta del ministro alla transizione ecologica cingolani dovrebbe arrivare gaia che cucci attuale commissario del lato idrico del ponente ligura una sostituzione che sta creando tensioni anche per il colore politico della nuova presidente legata al presidente della regione liguria giovanni toti e andiamo a casselnuovo per vedere la mega struttura che è stata posizionata come cavalca ferrovia grazie a una gru imponente è stato un passaggio fondamentale quello vissuto dal cantiere che permetterà il superamento della ferrovia della strada sottostante nei pressi della stazione ferroviaria di castelnuovo nel corso del pomeriggio di martedì 12 luglio l'impresa esecutrice dei lavori la guidigino spa ha posizionato il piano stradale sul sovrappasso realizzato in acciaio corten si tratta di un metallo resistente alla corrosione atmosferica e alle sollecitazioni meccaniche la parte ferrosa ha un peso di 110 tonnellate per una lunghezza di 30 metri necessari al superamento dei binari ferroviari per completare questa operazione è stato necessario far giungere un mezzo speciale dalla liguria macchinario in grado di alzare più di 600 tonnellate le operazioni si sono svolte secondo programmi alle 18 il varo del ponte era stato completato senza complicazioni ormai siamo diciamo a definire i modi e i tempi della riapertura questo è sicuramente significativo e credo che sia anche una svolta importante per castelnuovo ma direi per tutta la garfagnana visto anche i lavori sullo scalomerci che sono in corso da parte di rfi e il potenziamento su tutta la linea ferroviaria il cantiere nei mesi scorsi aveva subito un piccolo ritardo dovuto alla difficoltà di reperire la materia prima ma adesso si guarda avanti e in autunno il sovrappasso ferroviario potrà essere utilizzabile si abbiamo avuto questo ritardo dovuto alla mancanza di queste lamiere non si trova questo acciaio in tutta europa noi a fine settembre contiamo di passarci sopra e dopo di che un mese per le rifiniture quindi in ottobre dovremo essere collaudarlo è tutto per la prima parte del nostro telegiornale un breve break e poi la pagina sportiva